E' iniziato con un minuto di silenzio il ricordo di Roberto Caporale e il 47enne di Lanciano deceduto per un incidente sul lavoro, l'incontro pubblico del presidente del PD Stefano Bonaccini a sostegno della candidatura di Luciano D'Amico. Il lavoro, uno dei temi affrontati nell'incontro, insieme a Sanità, Trasporti, Infrastrutture e Agricoltura. Presidente Bonaccini, quanto sono importanti queste elezioni in Abruzzo a livello nazionale e come le guardate? Sono importanti tutte le elezioni, da una regione al più piccolo dei comuni. Certamente assumono un ruolo importante anche perché da qui è partita la cavalcata di Fratelli d'Italia e perché c'è una destra che qui ha cercato di garantire parecchio nel rapporto di sostegno e di forza al presidente Marsiglio, persino Meloni mi pare no, sia stata candidata qui per il Parlamento. Intanto credo che il PD qui a livello regionale abbia lavorato molto bene e abbia deciso di non guardare le appartenenze alla tessera che si ha in tasca per trovare una candidatura molto autorevole, di una personalità molto forte, perbene, competente e che ha dimostrato nel corso della propria vita cosa è in grado di fare. Adesso si deve pensare, al di là di chi si è votato precedentemente, qual è il futuro dell'Abruzzo. E dai dati che vedo mi pare che la sanità qui, come in tanta parte del paese, per colpa di questo governo di destra al quale Marsiglio non mi pare protesti granchè. Come invece ho visto fare anche a qualche suo collega, perché in Piemonte, ad esempio, Alberto Cirio, centrodestra, ha votato la stessa legge che le regioni toscane ed Emilia Romagna abbiamo approvato, che chiedono di tornare al 7,5% nel rapporto tra spesa pubblica in sanità e PIL. Oggi con questo governo è sceso a 6,5%, sceglierà il 6%, scenderà nei prossimi due anni per la manovra finanziaria appena approvata e non l'ho vinto protestare per cercare di colmare questo divario della mancanza di infermieri, medici, eccetera, ai quali andava aumentato lo stipendio a partire da un taglio del cuneo fiscale che doveva essere più robusto da parte del governo. Silvio Paolucci, dunque presentata alla squadra della provincia di Chieti che si candida alle regionali. Forte, autorevole e bella, amministratori, sindaci, giovani, assessori comunali nei rispettivi comuni e anche chi ha ricoperto già esperienze, come anche nel mio caso, una squadra a disposizione delle persone perché ha già lavorato tra le persone, tra le comunità, a disposizione di tanti temi, dal lavoro alla sanità, alle questioni relative al settore primario e alle infrastrutture. Oggi Bonaccini, con voi c'è attenzione anche a livello nazionale per queste elezioni? Sì, un'attenzione è perché c'è un campo molto largo, una coalizione unita che vuole sfidare Marsilio sulle questioni reali. Posti di lavoro che purtroppo non aumentano e soprattutto anche le tragedie che hanno dimostrato come sia necessaria prevenzione e sicurezza nei luoghi del lavoro. E ancora la questione delle infrastrutture, i tagli dal PNRR alla ferrovia, alla situazione davvero difficile delle nostre autostrade. Tanti temi sui quali confrontarci e dare una proposta alternativa all'Abruzzo.